Sono trascorse ormai due settimane dalla riapertura delle scuole anche nella provincia di Pesaro e Urbino. Ogni istituto della provincia si è dotato di strumenti e regole necessarie a garantire le norme anticontagio da Covid-19, come per esempio l'installazione di termoscanner utili a rilevare la temperatura corporea degli studenti all'ingresso dell'istituto. Diversa da scuola a scuola, anche la scelta relativa al rientro totale o parziale dei ragazzi. Alcuni istituti hanno optato per le classi dimezzate, grazie anche all'utilizzo della didattica a distanza e dello streaming, mentre altri hanno deciso di reintrodurre in modo integrale le lezioni in presenza. Tutte le precauzioni del caso non hanno però bloccato i primi casi positivi di coronavirus riscontrati tra gli studenti. Durante la scorsa settimana sono stati tre gli episodi in provincia, tutti registrati all'interno di istituti primari, prima al Pascoli di Gallo di Petriano, poi all'istituto Mattei di Acqualagna e anche al Della Rovere di Urbino. Proprio per quest'ultimo i circa 20 bambini e relativi insegnanti della classe poste in quarantena potranno tornare a scuola a partire dal prossimo giovedì. Sono infatti risultati tutti negativi i tamponi effettuati a compagni e docenti della bambina che aveva contratto il Covid. Se fino ad oggi casi di positività sono stati riscontrati unicamente in istituti primari, nel fine settimana è scattata la quarantena anche per una classe del liceo scientifico Marconi di Pesaro, dove uno studente 14enne frequentante una classe prima è risultato positivo al virus. L'alunno ha manifestato i primi sintomi da Covid nella propria abitazione e la famiglia del ragazzo ha prontamente allertato il medico di base per richiedere il tampone. I test a cui saranno sottoposti i compagni e docenti sarà un banco di prova per l'intera scuola, per verificare se le misure adottate si potranno considerare sufficienti per scongiurare il contagio tra le mura dell'istituto, come spiega il dirigente Riccardo Rossini. La classe è in quarantena, fortunatamente non tutta la classe, perché noi siamo al 50%, 50% in presenza e 50% a distanza, quindi soltanto gli alunni e i compagni che erano con lui nei primi due giorni, prima che si sentisse male, sono finiti in quarantena e seguono le lezioni a casa. I tamponi saranno effettuati oggi, quindi nel giro di un paio di giorni avremo anche il risponso e così vedremo se tutte le procedure sanitarie messe in atto, l'istanziamento, il termoscanner e il 50% funzioneranno. Era da mettere in conto, lo sapevamo, eravamo pronti, speriamo che però di casi così ce ne siano pochi, perché altrimenti andiamo in crisi. Perché oltre agli studenti ci sono poi i docenti che sono finiti in quarantena, i docenti faranno lezioni da lontano, a distanza, però tutto è abbastanza complicato dal punto di vista logistico e organizzativo, quindi un conto è gestire un caso, un conto è gestirne 3, 4, 5. L'invito dei presidi rimane quello di tenere alta l'attenzione e rispettare le regole anti-contagio non soltanto negli spazi scolastici.